un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte allora oggi è il video dell'estrazione ma prima volevo fare due ringraziamenti allora il primo ovviamente va a tutti coloro che hanno partecipato siete stati veramente in tanti sia ragazze che ragazzi e mi avete scritto veramente delle cose tanto carine quindi io vi ringrazio di cuore e il secondo ringraziamento va anche alle persone che tanto carinamente mi hanno scritto in privato sui miei social chiedendomi insomma un po' che fine avevo fatto perché sono un po' sparita da youtube ma soltanto perché in questo momento sto creando creando e ancora creando e anzi se vi fa piacere domani sulla mia pagina facebook pubblicherò un po' il frutto di questa mia creazione in parte l'avevo già pubblicato ma domani sarà quello definitivo diciamo così e sono abbastanza emozionata ok passiamo subito all'estrazione andiamo a prendere il video del giveaway lo mettiamo in pausa e scendiamo giù nei commenti e mettiamo commenti dal più recente come al solito l'ultima partecipare è stata filomena fat alla quale ha segnato il numero 307 e quindi andiamo a prendere il sito random.org e mettiamo minimo uno ok il massimo 307 ok allora il vincitore la vincitrice è the winner is sempre emozionata va in dodici oddio che spettacolo dai dodici non me l'aspettavo numero vicino picciò bene e sì sono stupida non ci fate caso metto giù e capirai ci metterò una cifra per andare giù voi aspettatemi con tanta pazienza eccoci qua allora il numero 12 ho assegnato il numero 12 a maria grazia zappavigna maria grazia zappavigna sei la vincitrice del mio giveaway allora scrive ciao grazie per l'opportunità hai avuto una bellissima idea sei bravissima da quando ti ho scoperto non mi sono perso un video grazie cara mi piace tanto il trucco che hai fatto se qualche volta potresti riprodurlo a me farebbe piacere non vedo l'ora che apri la rubrica cinema un bacio grande naturalmente partecipo che carina sì e in effetti c'è ragione che la rubrica cinema sta lì che ma cioè sta lì ma deve essere fatta ecco e infatti io rispondo certo grazie ti assegno il numero 12 e lei mi rimanda ancora i bacini grazie e niente quindi maria grazia zappavigna sei la vincitrice del mio giveaway e ti lascio tre giorni per contattarmi lo puoi fare tramite i miei social oppure semplicemente mandandomi un email e lascio il mio indirizzo giù nell'info box e niente allora io ragazzi e vi ringrazio di nuovo tutti per aver partecipato sapete che tanto io farò altri giveaway quindi insomma rimanete connessi si dice così e niente se vi fa piacere comunque domani venite a trovare sulla mia pagina facebook quindi niente io vi ringrazio per aver visto questo video se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte